buongiorno a tutti oggi vedremo come liberare spazio sui dispositivi android eliminando la cache che cos'è la cache la memoria cache è una memoria gestita dall'hardware del dispositivo che serve per velocizzare l'apertura dei software nel caso di un dispositivo android serve molto per velocizzare l'apertura delle singole applicazioni però quando questa cache diventa un po troppo pesante può magari rubare spazio ad altre cose più importanti dello smartphone o del tablet vediamo come fare per eliminarla dunque fino a qualche tempo fa per eliminarla c'erano dei sistemi delle delle applicazioni esterne di terze parti adesso lo si può fare direttamente anche dai dispositivi android questo che sto usando è un one plus e però sostanzialmente la grafica dovrebbe essere molto simile anche per gli altri dispositivi per per le altre marche insomma si deve andare sulle impostazioni qui si scende fino a che non si arriva a archiviazione e memoria ecco in questo momento io sto usando 21,63 gb dello spazio totale a disposizione che di 56 55 gb quindi sto usando il 38 per cento di spazio e chiaramente quindi avrei ancora molto molto spazio libero dunque si può liberare spazio andando qua direttamente oppure si può farlo anche in maniera più dettagliata per esempio si va qui su app e qui vengono elencate tutte le app del nostro sistema del nostro android si può scegliere ad esempio una app facebook ecco si può scegliere di cancellare la cache di facebook che è molto pesante come vedete 248 megabyte si va su cancella cache e automaticamente la cache è stata cancellata lo si può fare anche per altri per altri dispositivi come per esempio chrome su cancella cache sarà cancellata la cache di chrome che è di 394 megabyte ritornando alla schermata precedente qui si possono visualizzare le immagini che abbiamo nel nostro dispositivo per eventualmente cancellare quelle che magari non ci interessano così lo stesso per i video in altro ci sono magari dei collegamenti a google drive però per eliminare la caccia da tutte le applicazioni in maniera totale si va qua giù su questa dati memorizzati nella caccia che come vedete sono 3,26 gigabyte in totale di 21,26 gigabyte in totale si va su ok per cancellare tutti i dati della cache ecco vedete ci è voluto un po' di tempo e adesso sono ridotti a 5,53 megabyte da prima erano oltre 3 gigabyte quindi vengono ricalcolate tutte tutte le tutti i dati e tra un po' vedremo qua su il risultato vedete che lo spazio utilizzato adesso è sceso a 18,40 gigabyte dai 23 che era in precedenza che era in precedenza con la percentuale che adesso è del 33% invece che del 38% e questo è tutto alla prossima